Ex giocatore della Roma di Walter Sabatini, ora Morgan De Santis si ritrova a raccogliere le rilità lasciate a salire dal suo ex direttore sportivo. 45 anni, abruzzese è l'ex portiere di Pescara, Juventus e Roma tra le altre squadre, che in carriera ha vestito anche le maglie delle nazionali ed ha giocato all'estero in possesso del patentino di DS e di allenatore. Da dirigente ha cominciato come team manager alla Roma, ricoprendo il ruolo di DS ad interim dopo l'addio di Petrachi ed infine affiancando Tiago Pinto. A febbraio di quest'anno ha chiuso la sua esperienza con il club giallorosso. De Santis era ad un passo dall'accordo con il club greco dell'Olimpia Kos, mercoledì sera poi la svolta. Dopo il no di Riccardo Bigon, la salaritana ha virato su di lui e De Santis è subito mostrato entusiasta dell'opportunità. Ieri l'incontro con il presidente Ierevolino e la Di Milan e subito la firma su un contratto triennale. Come per quello di Davide Nicola, però alla fine di ogni stagione la società si riserverà la possibilità di interrompere il rapporto. La scelta di De Santis è nel segno dell'innovazione, come si legge nel comunicato ufficiale del club Granata, che parla di un modo dinamico e trasversale di intendere il calcio. Oltre alla battaglia contro le commissioni e gli agenti, la salaritana vuole cambiare tanti aspetti e tante dinamiche del mondo del calcio e di sicuro la sfida è affascinante ma anche difficile. Si passa dall'esperienza e dal carisma di Sabatini all'entusiasmo, alla gioventù e alla voglia di cimentarsi su un palcoscenico importante e con grande responsabilità da parte del suo successore, che dovrà avere il giusto supporto della società e soprattutto dovrà godere di una certa autonomia nel suo campo d'azione. La virata su un dirigente che praticamente al debutto come responsabile unico del mercato di un club di massima serie, dopo il no di Big On, potrebbe lasciare un po' perplessi. Si passa da un big di grande esperienza ad un esordiente e in mezzo c'è stato il mancato accordo con un dirigente che sembrava avesse requisiti di cui la società andasse in cerca. Il mercato si fa prima di tutto con le idee e le conoscenze, poi con i soldi che sono importanti per chiudere certe operazioni, poi vanno anche spesi con un'unculatezza, idee, conoscenze e competenze. Sarà questo l'apporto del nuovo direttore sportivo e conteranno i rapporti con gli agenti che, si voglio o meno, influenzano il mercato. In questi giorni la serenana ha dragato il mercato, contattando diversi club per parlare di possibili affari. Ora c'è un direttore sportivo e sarà suo compito. Il campo poi sarà giudice insindagabile. Dopo l'impresa compiuta grazie al lavoro di Sabatini e Nicola, ora è tempo di programmare il futuro. Ieri Volino ha voluto un netto cambio di registro rispetto ad una parentesi vincente e De Santis dovrà dimostrare che il Presidente abbia visto giusto puntando su di lui. La volontà di investire c'è, resta da capire se si troverà una sintesi con gli agenti sulla questione commissioni che resta tema centrale e delicato intorno al quale si svilupperà il mercato nelle prossime settimane.